A volte ci sembra difficile dire la verità in situazioni in cui ci sembra che dire certe cose potrebbe creare ulteriori problemi. Questo ci capita anche nelle materie ecclesiali, quando ci rendiamo conto che la Chiesa, i suoi uomini, con i suoi uomini, sta camminando su una china che ci sembra pericolosa. Naturalmente, sa va san dir, dobbiamo essere molto prudenti nei nostri giudizi, ma dopo decenni di osservazioni non dobbiamo aver paura di denunciare situazioni o tendenze che ci sembrano pericolose per la Chiesa stessa. Bisogna evitare che la giusta prudenza possa derivare da codardia o, ancora peggio, da interesse personale. Quante persone in Vaticano preferiscono il silenzio per paura di rovinarsi la carriera e di perdere i propri privilegi? Certamente non bisogna criticare tanto per il gusto di criticare, anche questo sarebbe certamente sbagliato. Ho sempre detto che in alcuni critici della Chiesa c'è dell'ovvio rancore e questo certamente non è un atteggiamento accettabile. Ma, detto questo, non significa che ci è impedito comunque di presentare delle rimostranze, se riteniamo, che possano fare il bene della Chiesa stessa. Del resto, la Chiesa non ha paura della verità, se essa vuole rappresentare la verità più alta. La verità può certamente spaventare, ci spinge a cambiare, ci forza anche ad interrogarci, ma essa non può essere tenuta fuori, pena il vivere in una perenne ipocrisia. Il Papa Biod XII, in un discorso del 1939, diceva Amica della verità, la Chiesa ammira e ama il progresso del sapere al pari di quello delle arti e di ogni cosa che vede, bella e buona, ad esaltare lo spirito e a promuovere il bene. Questo era un discorso in occasione della solenne inaugurazione del quarto anno della Pontificia Accademia delle Scienze, appunto nel 1939. La Chiesa non teme tutto ciò che è vero, proprio perché è stata fondata da colui che si proclamava verità, via e vita. Quindi la ricerca della verità delle cose non può che essere una priorità per chi vuole essere vero cattolico. E questa verità riguarda anche le materie temporali, visto che siamo nel mondo e viviamo nel mondo. Oggi, certamente, tutti sappiamo che è un tempo di grande difficoltà e prova per la Chiesa Cattolica e criticarla tanto per danneggiarla è certamente male e profondamente sbagliato. Ma lo è altrettanto vederla in difficoltà e non fare nulla per aiutare a migliorare la sua situazione di oggettiva difficoltà.